Ciao a tutti e a tutti, nuovo video, che riccio, come state? Spero bene, allora oggi e stamattina buon lunedì a tutti, innanzitutto buon inizio settimana e buona festa della donna a tutte, auguro a tutti noi, ma soprattutto a chi guarda questo video, e niente, oggi al giorno altamente non è dei migliori, però va bene così, sì è vero, mi sa tanto di pioce stamattina, spero che non piove perché non ci vorrebbe di piovere, e, dunque, sto registrando con la fotocamera e non controllare, comunque niente, io sono ancora in pigiama, ma tra poco mi vesto, vediamo se non mi vesto in pigiama, non ho idea, infatti vedete che sono in pigiama, però non fa niente, perché poi mi vesto, comunque, contanto è piuttosto bene, alla fine, sono stata bene stanotte, anche se, vabbè, mi svegliavo da un momento all'altro, poi recuperavo continuamente il sonno a retratto che avevo, e che ho, che ho avuto finora, infatti, ehm, nulla, eh, grazie, io adesso, eh, troppo occupo da fare le skin care, però non mi porto con voi, non mi porto, scusate, mi porto così, però non mi porto con me, perché, ehm, semplicemente perché l'ho già fatta tante volte a skin care con voi, quindi, questa volta passo e chiudo, ehm, c'è nel senso che chiudo non stop il video e riprendo in un altro momento quando ho fatto la mia bella skin care, anche se, ammetto che vorrei portarvi con voi, non so se portarvi con voi o meno, se portarvi con me è tali, ho questo vizio di dire di portarvi con voi, che ci sto a dire, che sto a dire, chiaramente per portarvi con me, perché voi siete con me, non io con voi, vabbè, c'è un padre, che io non so sempre l'avventura stupida, però vabbè, perché sono stupida, amici, che ci volete fare, se sono stupida, ehm, già, e niente, non so come tenere questa telecamera, perché fanno male le braccia, nel senso che è pesante questa telecamera, voi non credete, ma questa telecamera è parecchia pesante, già, meno male di qua, di sotto c'è il cancino, da questa parte lì, non c'è per, insomma, per tenerla, perché altrimenti serve una cosa avvicinante. Se sentite rumori sottofondo, è perché non sa se piovere, o se fare catastrofi, se fare il diluvio universale, perché non so se lo faccio vedere. Allora, vedete? Sì, adesso la telecamera non è messa al massimo, perché magari ci sono i pixel bruciati, però non commento. Non è come pensate voi, aspettate un attimo, che torno al normale. No, non si può. Aspettate un attimo, provo ad aprire. No, non si può. Aspettate un attimo, torno sotto. Eccoli qua, vedete come la giornata oggi non è il massimo. È una giornata da lupi, vedete? Non è bella per niente. Sì, è un po' schifino, però vabbè, dettagli. Questi sono. Sì, è un po' schifino. Sì, è un po' schifino. Sì. Sì. sperando che sia giusto si vabbè non ci fate cosa che c'è che c'è insomma casino vabbè non abbiamo avuto il tempo di lavare i piatti ieri sera erano troppo stanchi quindi ce l'ha fatta andare a letto presto ieri sera siamo stati a letto presto perchè siamo andati a letto presto e adesso sono innanzitutto sono alle 6.58 quindi tra poco io ho già fatto colazione nel frattempo perchè sennò non riuscivo a muovermi a fare questo video che criccio e niente quindi non so quando riuscirò a caricare questo video e se riuscirò a caricare questo video su youtube quindi non lo so si sono alle 6.58 e niente sperando che si senta e si veda bene sto video perchè cercheremo a fare sto video barra video criccio vlog come potete chiamare voi e dopodichè ovviamente cercherò di portarlo a montarlo a sto video sperando che non si vedano i pixel bruciati perchè sennò mi trovo come una aliena perchè spero di no ieri allora altro giorno ho comprato una pianta comprato si fa per dire perchè ci hanno regalata quindi non si fa per dire quella lì vedete quella lì di fronte della televisione affiancata questa proprio questa qua questa si vedete che bella aspettate perchè le mie inquadrature non sono il massimo si proprio questa bella vero? bella si molto bella quella pianta e niente e questo è quanto quindi tra poco faccio le mie schizzer ma non so se vi porto in bagno con me mi doveva anche cambiare tra l'altro mi doveva anche cambiare tra l'altro e voi che ne dite di stamattina? che farete da voi? nel senso che fatevi bello cosa come vi organizzate perchè sei già andate alla festa della donna? fatemi sapere sotto qui nel box dei commenti ok? e niente io vi saluto perchè questo voleva essere un video breve vi auguravi tanti amuri tante belle cose un abbraccio calorosissimo e ci becchiamo al prossimo video mettete like commentate e se va iscrivetevi perchè è gratuito e attivate la campanellina ciao a presto un bacio ciao a presto ciao a presto ciao a presto